Grupa ma è tranquillità Ciao sorellina, ti vedo tutti i giorni, io ho la mamma che è felicissima, sei, io sarei sempre la mamma Grande fratello, tutte le emozioni che vuoi Siamo, 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 sono duro Con Alessia Marcuzzi, Grande fratello, stasera alle 21.10 su Canale 5 Haha, mangiati Ma cosa ci vuole con tutti questi funghi? Vedi, da oggi ne metto ancora di più Prova le rinnovate ricette dei primi piatti di 4 salti in padella Findus Certo che ti difendi bene in cucina 4 salti in padella Findus, gusto da chef Quando i capelli sono sciupati, si vuole una riparazione totale Nuovo Elviv Total Refer 5 de L'Oreal La sua formula ricostituente con frucheratina e ceramide Combatte i capelli frati, sfibrati, spensi, che si assottigliano con doppie punte I miei capelli sono trasformati più pieni, più forti Splendolo di salute, riparati dalle radici alle punte Quale altro shampoo può darvi tanto? Nuovo Elviv Total Refer 5 de L'Oreal 5 problemi? Una soluzione, perché voi valete Arriva Natale, facciamo un dolce Lievito pane degli angeli Fa più dolce il tuo Natale Per avere tutta l'energia che ti serve ogni giorno Basta sfruttare al meglio quello che mangi BetoTal Plus, tutte le vitamine B, tutte insieme Per aiutarti a trasformare l'energia del cibo in energia per te BetoTal Plus, energia da bruciare E per noi bambini? BetoTal Plus Sciroppo, energia per i più piccoli Eletto prodotto dell'anno 2009 Scusate, avete mai gustato il pesto Pinogli e Basilico Saclà? Mai stati a Genova, eh? Come si fa senza Saclà? L'erologio di mio papà è un T-Touch Expert Quello di mio papà è un T-Touch Scopri la magia della nuova Touch Collection di Tissot Quanto più di un erologio? Ha rubato il cuore alle nocciole più belle Al cioccolato più cremoso Al buffer più croccante e sottile E poi l'ha ricoperto d'oro È così che ruba il cuore a tutti quelli a cui lo offri A chi non vedeva l'ora di essere di nuovo a casa E a chi lo aspetta ogni volta con lo stesso affetto Lui è Rocher Nella vita ti possono piacere in tanti Ma solo uno ti ruba il cuore Nessuno è come lui E ha preso di mira le gabbiette dove si possono annidare i germi Duck Fresh Discs Premi l'impugnatura nel dosatore E sei pronta all'azione E senza gabbiette che possono ospitare germi Mantieni il WC fresco e pulito Duck Fresh Discs L'unico senza gabbietta E con Duck Power igienizzante e il suo collo esclusivo Massima igiene fin sotto il bordo del WC Niente impossibile per Duck Lavori e vuoi laurearti Devi superare un esame difficile CEPU ha il servizio su misura per te Informati ora A novembre la preparazione di un esame è gratuita In più hai la garanzia promosso o ripreparato Chiama l'800 33 11 88 Facile Bella Buona Sana Polenta Valsugana 12 rose rosse e una radiolina 63 euro online con Mastercard 2 a 0 Essere in due posti contemporaneamente non ha prezzo Ci sono cose che non si possono comprare Per tutto il resto c'è Mastercard La carta per tutte le tue spese Anche quelle speciali La vita è imprevedibile Non nella mia cucina La cucina ha delle regole che il cuore non può capire Sapori e dissapori In Prima TV Canale 5 domani alle 21 e 10 Sentitevi protetti Grupa Ma è tranquillità